buongiorno bella gente come state ho provato a farmi un un giro su internet tra le varie offerte di lavoro incredibile non si trova più lavoro oggi a meno che tu non abbia delle conoscenze a meno che tu non sia uno specialista di quelli super richiesti che all'estero così ho provato a mandare col mio piccolo tedesco richieste così anche alle famose gelaterie che ci sono in germania madonna incredibile cioè quando capiscono che hai oltre i 40 anni non ce n'è a un certo punto penso dico ma la gente che ha ciao micioni la gente che ha passato i 40 anni o la gente che si trova fuori dall'azienda per cui lavorava che cosa può fare dove sbatte la testa lo stato non non aiuta così tanto come uno potrebbe immaginare o potrebbe desiderare che lo stato facesse di conseguenza mamma mia non è il massimo della vita ora capisco anche perché magari tanta gente se ne rimane dai suoi genitori o cose simili perché non dico che sia impossibile ma quasi me la sono sempre cavata nella vita sempre e se un giorno decidessi di trovare un lavoro credo che mi dovrei sbattere veramente veramente molto più di un tempo perché un tempo c'è un tempo vi parlo anche solo di 15 anni fa 2004 si riusciva ancora a trovare lavoro porco cane ragazzi sono rimasto stupefatto tante offerte ma nessuno che ti risponde quando vede la tua data di nascita praticamente è passato 40 anni secondo loro sei da buttare sei da da rottamare forse ma io non mi sento da rottamare il lavoro con youtube come state vedendo lo sto facendo ancora con più impegno perché giustamente ho una piccola entrata da parte del mister google e me la tengo proprio stretta me la tengo proprio stretta sì assurda questa cosa però mi lascia un po basito senza parole mi lascia un po mi lascia un po tanto stupefatto perché cazzo non si può non si può più trovare lavoro e vi sto parlando dalla lombardia ragazzi lombardia cioè o hai delle conoscenze che comunque ti sa un po di raccomandazione lo so però se non fai così ci rimani sotto ora capisco anche perché tanta gente fa brutti pensieri la cosa non mi piace per niente mi spaventa non mi arrendo è perché io non mi arrendo sono fatto così sono decoccio però se uno è appena appena debole così e non ha non ha ganci come potrebbe fare dove si potrebbe attaccare forse qualcuno si butterà che ne so io non è l'illegalità probabile anche se lì quanto puoi durare boh un mese un anno non ne ho idea mamma mia ragazzi il mondo sta andando un po al contrario scusate e dopo questa specie di sermone vi do un bacione e dopo questa specie di sermone vi do un bacione